John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi per Xbox, anzi in realtà ieri, è uscito FIFA 19 e molto presto, esattamente il 28, uscirà anche per le altre console, quindi PlayStation 4 e anche ovviamente computer, per chi gioca per il computer. Quest'anno vi porterò anche delle carriere, se insomma, nel caso voi gradiate, diciamo così, però al di là di questo ho deciso di portare questa serie dedicata a FIFA. Di che serie sto parlando ragazzi? In questa serie vi andrò a dire che mercato farei con l'Atalanta su FIFA 19. Ragazzi attenzione, è tutto basato su FIFA, questa carriera l'ho gestita su FIFA, so che ci rientreremmo con i calcoli e quindi insomma andiamo a parlare di chi comprerei, di chi venderei, se posso comprarlo, ovviamente con la grafica qui a sinistra. Allora, premettendo una cosa importante, l'Atalanta inizia da 8 milioni e 8, quindi ce la dobbiamo gestire da 8 milioni e 8, ma non solo ragazzi, perché gli obiettivi dell'Atalanta sono in campionato arrivare in piazzamento Europa League, in Europa League arrivare almeno agli ottavi di finale o giù di lì, per quanto riguarda la finanza bisogna tenere almeno una decina di milioni di euro, poi insomma staremo a vedere quello che chiederà FIFA di volta in volta con i vari aggiornamenti e poi soprattutto una crescita dei giovani massima, altissima, dobbiamo avere tantissimi giovani all'interno della rosa. Proprio per questo il mercato che andremo a fare ragazzi sarà molto intelligente con tanti giovani italiani, con una rosa lunga perché dobbiamo fare campionato Coppa Italia ed Europa League e soprattutto ragazzi cercando, io alla fine arriverò, ve lo dico subito, con 20 milioni di euro all'attivo, perché? Perché quando andremo a vendere dei giocatori, poi insomma lo vedrete anche grazie alle grafiche, andremo poi a contare il totale, quindi noi veniamoci ora a 25, io conto 25, in realtà su FIFA ti danno l'80%, quindi su, che ne so, su un 10 milioni te ne danno 8 e quindi 2 milioni non li vedi e quindi alla fine invece di tenerne 10 ne tengo 20 perché così almeno ragazzi che è entrato nelle spese. Detto questo io cercherò di fare una carriera reale, però qual è il discorso ragazzi? Il discorso, intanto mi invito a lasciare tanti giovani qui sotto perché se volete che domani esca nuova carriera, mi raccomando. Oltre questo, qual è il discorso ragazzi? Il discorso è, allora, io ci sono un sacco di giocatori in prestito e prestati e io voglio farla reale, realissima, però metterò in chiaro un attimo la situazione perché non ho alcuna voglia, alcuna voglia ragazzi di andare magari ad avere un giocatore in prestito, un giocatore che ritorna, non me ne frega niente, voglio un progetto serio, magari interessante, magari intelligente, però comunque molto molto serio. Allora, per quanto riguarda i prestiti abbiamo Raduvanovic in prestito, 69 di overall, 22 anni, portiere, io ragazzi lo lascio in prestito perché per me sarà il nostro portiere del futuro, magari assieme a Gollini, quindi insomma lo lasciamo in prestito. Abbiamo Sportiello, c'ha 78-26 anni, Sportiello lo richiamo e lo vendo perché comunque mi garantirebbe 11 milioni di euro. Terzino destro abbiamo Almici, Almici ragazzi c'ha 68-25 anni, è un po' scarso, un milione di euro lo do via. Così come tra i difensori centrali sia Swager che Kresic, rispettivamente 67-65-25 anni e 22, li vado a dar via a un milione per uno, perché sinceramente, parliamo un attimo dei prestiti, non ce faccio niente, quindi li richiamo e li presto. Sesta storia per D'Alessandro, che c'ha 70-27 anni, lo do via a 3 milioni di euro, quello che vale ragazzi, non mi sto inventando nessuna cifra. Cristante, Cristante ragazzi è nostro in realtà, è alla Roma ma è nostro, sinceramente mi rode anche perché purtroppo non esistono i riscatti in FIFA, cioè nel senso, non è che c'è il prestito con diritto di riscatto e sta cosa a me rega mi fa impazzire, mi fa innervosi da morì, perché l'anno prossimo se li troviamo qua, inutilmente, quindi io anche Cristante lo vado a richiamare, c'ha 78 di ovvero al 23 anni, lo vado a richiamare e lo vendo a 20 milioni di euro, perché lo vendo? Lo lascerei volentieri, però realmente ragazzi, realmente non ritornerà mai Cristante all'Atalanta, la Roma ha già pagato una cifra molto importante e pagherà ancora, quindi lo vado a vendere, 20 milioni di euro è più o meno il prezzo di FIFA. Oltre a Cristante, tra i centrocampisti, abbiamo Schmidt, che c'ha 72-25 anni, anche lui lo richiamo e lo vado a vendere a 4 milioni e mezzo di euro. Agazzi, che c'ha 25 anni e 67, anche lui lo richiamo e lo vado a vendere a 1 milione, se sta storia per As, che non è scritto come culo, che ha 65-22 anni e lo vado a vendere per 1 milione e mezzo di euro. I colpi grossi ancora mancano, abbiamo ragazzi Mattiello, che sinceramente io me lo terrei Mattiello, perché lo reputo un ottimo giocatore e lo lascio in prestito e me lo prendo l'anno prossimo, quando tornerà. Abbiamo Chessy, che c'ha 78-21 anni ragazzi, io sinceramente Chessy non mi sento di lasciarlo lì per la stessa storia di Cristante, a che serve? Quindi lo richiamo, richiamo Chessy e lo vado a vendere a 25 milioni di euro, è quello che vale su FIFA Chessy, 25 milioni di euro. Passando agli attaccanti abbiamo Petagna, che è in prestito, ma in realtà, nella realtà, Petagna tornerà all'Atalanta, perché se non sbaglio è in prestito secco. Quindi io lo richiamo e me lo tengo, mi tengo Petagna ragazzi, mi tengo Petagna, poi capirete anche perché. Poi abbiamo Monaghello, che lo chiamo e lo vado a vendere a 1 milione e mezzo di euro, poi abbiamo Vido, che ha 67-21 anni, e Capone, che ha 66-19 anni, entrambi li lascio in prestito, perché per me, per il futuro dell'Atalanta, potrebbero veramente far bene. Detto questo ragazzi, detto questo, detto questo, andiamo a vedere invece adesso che cosa farei, come mi muoverei per quanto riguarda l'Atalanta in sé. Andiamo subito a vedere i portieri. Non importa ragazzi, partendo quindi da 79 milioni di euro, che sono quelli che abbiamo raccolto dai vari prestiti, più il budget che avevamo, quindi potremo fare una mini rivoluzione, ma non la faremo, avverto subito. In porta abbiamo Beriscia, che ha un 78-29 anni, Gollini, che ha un 70-23 anni, Rossi, che ha un 60-27 anni. Allora, io, sinceramente, voglio un portiere molto forte in porta, molto, molto, molto forte in porta, e non me la sento, di dare tutta la responsabilità della porta a Beriscia. Gollini crescerà, diventerà il titolare, io Beriscia lo vado a vendere a 9 milioni di euro, che è quel che vale Beriscia, però al suo posto vado a spendere tanto, un'ingente somma di denaro, per portarmi a casa Neto, ragazzi. Norberto Neto, che vale... Si chiama Norberto? Se me si chiamasse Norberto. Vabbè, Neto, che vale 25 milioni di euro, lo vado a prendere, lo porto all'Atalanta. So che è un progetto italiano, so che è un progetto giovane, e questo probabilmente sarà uno dei pochi, se non l'unico in assoluto, acquisto non giovanissimo e soprattutto non italiano. Perché? Perché il portiere, ragazzi, mi serve. Mi serve tanto. Quindi mi importa un Neto, Gollini e Rossi, e appunto abbiamo 63 milioni ancora da spendere, anche se poi ve l'ho già detto, 20 milioni non li spenderò. Passiamo adesso ai difensori. In difesa l'Atalanta ha Toloi, 78, 27 anni, Masiello, 79, 32 anni, Palomino, 76, 28 anni, Demistiti, 67, 25 anni, attenzione perché lui è in scadenza, Vernier, 70, 20 anni, e lui è in prestito, Mancini, 70, 22 anni. Allora, l'osso duro di questa squadra sono Toloi e Masiello, che non si toccano. Poi Palomino, che però lo faccio retrocedere a difensore centrale in panchina, primo in panchina, perché non mi va di metterlo di dolare, ricordiamo che l'Atalanta gioca con la difesa 3 e io giocherò con la difesa 3, quindi Palomino non me la sento di metterlo di dolare, buono ma non me la sento. In panchina abbiamo anche i due giovani che sono Vernier e Mancini. Allora, innanzitutto, Di Misti lo vado a vendere, non lo so, quanto vuoi che ci faccio, un milione di euro, un milione di euro ce lo faccio. L'altro, ragazzi, è Vernier, non che lo vado a vendere, Vernier mi piace tantissimo, Vernier lo voglio, Vernier fra l'altro cresce un boato, però tenerlo qui adesso sarebbe un pochino inutile. Perché? Perché in presido l'anno prossimo più forte torna, mi pare al Cittadella e diventa molto più forte. Quindi, e costa molto di più, che faccio? Lo rimando a casa sua Vernier e lo vado a ricomprare immediatamente a 4 milioni di euro. 4 milioni di euro che per me sono pochissimi per il giocatore che poi Vernier diventerà. Ci serve il titolare e andrei a prendere con 28 milioni di euro Rugani. Voi direte, ho capito, ma Rugani è della Juventus, ma non gioca? Non gioca, ragazzi. Rugani è della Juventus, non gioca. Ha fatto un enorme passo indietro dopo l'Empoli, dopo quello che si diceva di lui, è finito a fare panchina anche a Caldare e Nazionale, è finito a fare panchina a Romagnoli, è finito dietro a Chiellini, Bonucci, Romagnoli, Caldare, quando lui praticamente era il terzo. Subito dopo Chiellini e Bonucci c'era lui, ovviamente scusendo Barzaghi che stava andando per la via del ritiro. Quindi per me anche realmente ci sta, ci sta che decida di andare via Rugani per giocare. Io spendo tanto, 28 milioni la Juventus, lo pagò una cazzata, se non sbaglio, addirittura uscì direttamente dal vivaglio della Juventus. se lo cederebbe anche lui verrebbe a giocare da titolare l'Europa League. A questo punto Rugani ragazzi ha 82-23 anni, pensate quanto possa crescere, pensate che reparto l'Atalanta possa avere con per il futuro Rugani, Barnier e Mancini, qualcosa veramente di spaziale. Quindi tra i difensori centrali abbiamo Rugani, Toloi, Masiello, Palomino, Barnier e Mancini e abbiamo il bilancio, cioè i soldi, abbiamo ancora 32 milioni di euro. Attenzione, mi dite, tocca a music, ma l'ingaggio, l'ingaggio ce l'ho calcolato, non ve lo sto facendo presente, ma l'ho calcolato e ci rientreremmo senza troppi problemi. L'Atalanta gioca con due fasce, una a destra e una a sinistra, ovviamente sono due fasce, però soprattutto un ED e un ES, ok? Un esterno sinistro e un esterno destro, un esterno destro e un esterno sinistro, non gioca con i terzini. Quindi ho preso sia gli esterni destri, sia gli terzini destri e ci ho fatto un'accoppiata. Sia i terzini sinistri, sia gli esterni sinistri e ci ho fatto un'accoppiata. Partiamo da quelli sinistri, anzi partiamo da quelli destri. A destra dell'Atalanta Rigoni, 78-25 anni, Castagna, 71-22 anni, Atebor, 75-24 anni e Nica, 65-25 anni. Allora, Nica lo cedo subito, 500.000 euro, Nica lo vado a cedere. C'è qualcuno che ve lo compra in Serie B, ve lo assicuro, tanto lo trovate, l'ho trovato, quindi lo trovate. E poi comunque ho giocato l'esperienza, però voi non ci fate veramente niente. Invece, ragazzi, qua Doto fa una scelta molto importante. A Rigoni non lo posso cedere, ok? Vi dico la verità, a me piacciono molto più Atebor e Castagna su FIFA, a Rigoni non posso cederlo perché è appena arrivato, quindi te lo tieni. Castagna te lo tieni perché è giovane e cresce tanto, non ci fai nemmeno i soldi. Se devo scegliere a questo punto, a malincuore, vado a cedere a Atebor. Perché vado a cedere a Atebor? Perché ti danno tanti soldi. Cioè ti danno 11 milioni di euro per Atebor, ragazzi, è quello che vale. Vale sui 9 milioni, ma se tiri sulla corda ti riesce ad arrivare ad 11. Quindi Atebor l'ho in pacchetto, lo faccio partire a 11 milioni di euro e sulla fascia destra mi tengo Rigoni come titolare e Castagna come secondo. Secondo me ci sta, ragazzi. Secondo me ci sta. E comunque abbiamo a questo punto 43 milioni e mezzo di euro che non sono assolutamente pochi. Sull'altra fascia dobbiamo fare un'operazione molto 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 importante perché abbiamo Gosenza, 71-23 anni, Adnan, 72-24 anni e Reka, 63-23 anni. Allora Reka, ragazzi, io lo darei subito in prestito, prestito lo cederei. Ma Reka è appena arrivato, quindi non puoi farci niente con Reka. È lì e te lo tieni. Poi se quest'anno c'è il modo, ancora non l'ho visto, per prestare i giocatori appena arrivati, ben venga. Però ragazzi, Reka è lì e te lo tieni. Abbiamo Adnan e Gosens. Io sinceramente qua rimarrei così perché Reka per me non è il vice. Cioè Reka non è proprio niente. Un 63-23 anni su FIFA non è niente. Lo cedo l'anno prossimo o lo presto. Magari sale, non lo so, magari lo faccio allenare. Ma per il momento Reka non è niente. Quindi mi serve un titolare e un panchinaro. Per me il titolare è Adnan, il panchinaro è Gosens. E quindi ci siamo. Con l'unica differenza che Adnan non è mio perché è in prestito e quindi io lo rimando a Udine e poi lo pago 5 milioni di euro. Vale sui 4, penso che per 5 te lo danno. E quindi lo pago 5 milioni di euro e vado a 38 milioni e mezzo di euro. Mi rimangono questi qua. E sulla faccia di sinistra ho Adnan, Gosens e Reka. Passiamo adesso al centrocampo. Il centrocampo, ragazzi, per me quello dell'Atalanta è molto molto buono. Anche se comunque un giocatore potrebbe anche arrivare. I titolari già ce li abbiamo. Io prendo un altro titolare, ce ne abbiamo 4 così, che però si alternano velocemente perché gli altri due sono molto giovani e non so quanto giocheranno. Allora, al centrocampo abbiamo Froiler, 76-26 anni e non si tocca. Pasaleccio, 76-23 anni, però è in prestito. Derun, 76-27 anni e non si tocca. Balzagna, 69-22 anni. Pessina, 68-21 anni. E Cavagna, ragazzi, Cavagna, ragazzi, ha 56-23 anni. Se riuscite a prestarlo, prestatelo, riuscite a vendere, lo vendetelo. Non so chi sia Cavagna e quindi, insomma, su lui non mi esprimo e lo faccio sparire. Detto questo, allora, abbiamo Froiler, Pasalic, Derun, Valsagna e Pessina. Ce ne rimangono 5, io ne voglio 6 perché ne voglio almeno 2 per ruolo. Ne voglio 4 forti e 2 che sono molto giovani, quindi Pessina e Valsagna non si toccano. I forti sono Froiler, Pasalic e Derun. Pasalic, ragazzi, è in prestito, quindi lo rimando a casa sua e lo recompro spendendo quella cifra per cui ho notato me lo danno. 13 milioni e mezzo di euro Pasalic te lo danno e quindi io spendo questa cifra e mi prendo Pasalic e quindi, ragazzi, Pasalic ce l'ho. Inoltre, vorrei un altro giocatore. Questo giocatore di cui vi sto parlando, ragazzi, è Pellegrini. È Lorenzo Pellegrini. Pellegrini che su FIFA cresce veramente un botto. Pellegrini che ha 78 su FIFA e che quindi, secondo me, potrebbe solo che far bene. Pellegrini che comunque poco, vi dico la verità, non ve costerebbe. Cioè, parliamo comunque di una cifra abbastanza alta. Ora, non so quanto siete disposti a spendere per Pellegrini, ma secondo me comunque per il futuro potrebbe essere ottimo. Pellegrini che comunque lo va a pagare 20, 20 milioni, ma che comunque ha 78, 22 anni se non sbaglio. E quindi, insomma, ragazzi, Pellegrini, tanta tanta roba. A questo punto a centrocampo avremo Froiler, Pellegrini, Pasalic e Derun, Valzania e Pessina. E il bilancio, cioè i soldi che abbiamo da spendere sono ancora 18 milioni e mezzo di euro. Passiamo adesso davanti. Davanti perché? Perché l'Atalanta gioca con il 3-5-2. Uno è un AT e uno è un AT ok? Quindi è uno che cioè 3-3-5-1-1 giochiamo così. Quindi un trequartista non ha una mezza punta e una punta, ok? Le mezze punte che abbiamo sono Papu Gomez, 84-30 anni e Ilicic, 81-30 anni. Raga, rimaniamo così. Rimaniamo così. Qualcuno dirà ho capito ma Papu Gomez 37 milioni non lo dai? No, mi frega niente. Non voglio smembrare la mia squadra, rimango così. E anche con Ilicic rimango così. Passo subito dagli attaccanti. In avanti abbiamo Cornelius 75-25 anni Tuminello 63-19 anni Barrow 66 l'hanno fatto scarsissimo 19 anni però cresce tanto Marilungo 71-28 anni e Duvanzapata 78-27 anni. Io ragazzi qua non faccio praticamente niente, ve la spiego subito. Cornelius lo tengo come secondo. Cornelius è il secondo. Tuminello se riuscite a prestarlo prestatelo se è appena arrivato fatelo crescere. Barrow rimane come terzo so che vedete ma 3 e Barrow ha 66 19 anni non mi va di prestarlo perché io lo alleno meglio di come possono allenarlo loro e perché mi piace quindi me lo tengo. Marilungo lo vado ad accedere per un milione e mezzo di euro non mi interessa Dupan Zapata ragazzi attenzione Dupan Zapata è in prestito da me. Visto che vorrebbero una cifra altissima comunque c'ha 78-27 anni insomma non fa parte dei progetti dell'Atalanti lo prendo e lo rispedisco a casa è fortissimo però ragazzi mi frega niente Dupan Zapata lo mando a casa mi ritorno a Petagna mi ritorno a Petagna quindi a questo punto io col milione e mezzo chiudo a 20 milioni di euro quindi abbiamo anche sia i soldi della differenza della percentuale sia i soldi che vuole l'Atalanta e davanti abbiamo Petagna come primo voi direte ma Petagna come primo? Sì se potete mettere Cornelius mettete Cornelius però a me va bene la coppia Petagna-Papu Gomez o Petagna-Ilicic c'ho anche Cornelius c'ho anche Barro c'ho anche nel caso Tuminello detto questo il nostro 3-5-2 sarebbe il seguente Neto in porta Rugani-Masiello-Toloi Rigoni-Pellegrini Pasaric-Froiler Ali Adnan Papu Gomez-Petagna qualcuno di voi dirà sì ma non è che ti sei rafforzato chissà anche forse ti sei anche indebolito su FIFA ho preso i giovani tipo Rugani tipo Pellegrini ho soprattutto riscattato quelli che volevo e che invece sarebbero tornati a casa tipo Pasaric per dirne uno tipo Ali Adnan per dirne un altro quindi a me questo interessava molto e penso di aver fatto un calciomercato abbastanza intelligente fammi sapere con un commento qua sotto se questa serie ti intriga fammelo sapere perché domani magari uscirà una nuova puntata iscriviti mi raccomando al canale iscriviti se ancora non l'hai fatto vi ringrazio di aver visto questo video mi piace tanti mi piace mi raccomando buasciala all'alene come è semplice e vediamo un prossimo video ciao